400 ostacoli 13 passi Danny Harris lo incalza perde terreno Aral Smith siamo sulla penultima barriera adesso Moses rallenta rinviene Aral Smith un leggero cedimento da parte di Moses anche di Danny Harris rinviene Aral Smith bellissimo questo duello in turismo in manta vince Moses davanti Aral Smith mai una gara così incerta mai una vittoria così sofferta 47-48 incredibile questa gara